Ero qui in negozio e è entrata una persona all'improvviso, io ero girato di spalle perché stavo curando la verdura e mi ha puntato un cortello e mi ha intimato di dargli dei soldi e a quel punto io subito non capivo cosa volesse e quando mi ha tirato fuori questo cortello gli ho dato dei soldi che avevo in tasca che mi serviva per il negozio e dopo lui voleva ancora soldi e alla fine gli ho dato il portafoglio. Da quello che ricordo avevo una giacca in pelle, mi sembra comunque un vestito di scuro, non era travisato e avevo questo cortello e un accento di una persona che veniva dall'est. Una persona probabilmente dell'est. E di questo coltello cosa ricorda? Quanto grande era? Era un saramanico, penso, non so, 20 centimetri, 15 centimetri. Quanti soldi gli ha dato? Adesso non devo ancora vedere, non ho avuto modo di vedere.